Siamo alla fine di questa legislatura che ci ha visto dialogare in questi 5 anni e con molti di voi avere già dei rapporti. Io mi ricandido in Veneto per il Senato, il collegio Veneto 1, questo qui in rosa, diciamo la parte est del Veneto, quindi Treviso, Belluno, Rovigo e Venezia e sono secondo in lista, quindi chi avesse piacere di continuare a vedermi impegnato nei prossimi 5 anni nelle battaglie su cui mi avete visto impegnato in questi 5 anni con il Movimento 5 Stelle, se vuol darci una mano è ben gradita, continuerò ovviamente ad apparire sui miei social, ho anche predisposto una mail specifica girotto elezioni senato 2018 chiocciolagmail.com, quindi faccio un appello banalmente, chi vuole contribuire in qualsiasi modo in questa campagna elettorale, naturalmente la cosa sarebbe assolutamente gradita. Quindi grazie in anticipo a chi vorrà darci una mano e buona campagna elettorale a tutti.